Questa sera e domani al Florian di Via Valleroveto a Pescara di Scena lo spettacolo transfer espressionista nato dall'idea di Pino Bruni con la regia di Umberto Marchesani. Si tratta di un esperimento certamente innovativo, quello di dare voce sul palco a due distinti arti, il teatro e il cinema. Lo spunto è quello dell'espressionismo cinematografico degli anni 50, fantascienza ed horror in particolare, ma anche della cinema noir che proprio dall'espressionismo fonda le sue radici. A corredo di una serie di omaggi ai grandi classici come Non Sferatu ad esempio, una serie di messe in scena da parte di un cast formato tra gli altri da Edoardo De Piccoli, Fabio Donofre, Antonella De Collibus e la piccola Vittoria Manni. C'è anche una marcia in più, c'è un alieno che si presenta in scena e quindi c'è questo transfert appunto di espressionista, c'è questo praticamente trascolorare dei generi nell'immaginario poi di questi personaggi che hanno un'esperienza onirica. Questa esperienza onirica si attua con dei video montati da me, con delle musiche di Anton Weber che era musicista espressionista si può dire. Quindi l'espressionismo tedesco, fantascienza anni 50 e noir in foto. Quindi è portare queste modalità, farle intersecare di modo che da creare una specie di sinergia tra le icone del cinema e il teatro portato in scena. Quando Pino mi ha proposto questa cosa ho abbracciato l'idea in toto anche perché anche io sono un po' appassionato dei film espressionisti, noir e ho voluto fare questo esperimento. Quindi abbiamo collegato con delle pantomime e delle citazioni tutto il lavoro video fatto da Pino e devo dire che l'esperimento è ben riuscito e può essere un format che si può anche riproporre in futuro. Grazie. 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 Grazie.